Medico, pediatra, allergologo, neonatologo ha partecipato a diverse missioni umanitarie in Africa e nell'Europa dell'Est. Ne parliamo con lui tra poco, dopo la sigla. Buongiorno, bentornati agli amici di Aracne TV. Il sipario di spazioscenico si apre sul protagonista di oggi, il professor Mauro Persiani. Buongiorno. Buongiorno. Salve professore. Nato a Norcia, classe 55, si è trasferito a Latina all'età di 14 anni. Ma noi prima di tutto vogliamo sapere chi era Mauro da bambino, com'era questa sua famiglia d'origine, come si immaginava da grande e come nasce questa passione per la medicina. Mauro da bambino era inserito in un contesto ormai credo dimenticato, scomparso, perché era un contesto bucolico di una piccola ferrovia privata dove un ingegnere svizzero aveva progettato un percorso di montagna ardito e era una ferrovia inserita in un contesto come quello umbro, di verde, di montagna, tutto in montagna. Tutto in montagna? Una ferrovia di montagna. Ma sembra di vederla, diciamo, immersa nel verde. Immersa nel verde partendo da Spoleto, percorrendo poi, arrampicandosi al passo fino a scendere nella Valnerina e lì arrivare lungo la Valnerina, lì veramente in pianura, ma in una valle molto stretta dove questo trenino entrava. Quindi era un luogo isolato? Un luogo isolato di piccoli paesi di montagna, la Valnerina non è molto alta come altitudine, ma è stupenda perché in essa sono inseriti dei piccoli paesi che portano Norcia a Cascia. Esatto, meravigliosi, meravigliosi, nonostante i sismi sono sempre meravigliosi. Nonostante i sismi, fa molto dolore di vedere Norcia oggi. Davvero, davvero. Ancora ho l'immagine di tutte quelle sorelle che stavano lì, che pregavano durante ancora le scosse di assestamento, insomma, nella piazza fuori dalla cattedrale. Che bambino era quindi? Un bambino introverso, estroverso? Un bambino introverso, un bambino che disegnava tanto, che aveva come spazio per la propria fantasia, per la creatività e il disegno. Quindi ho a casa ancora tanti disegni, un po' naifeli, di Rimoggi, che narrano i paesaggi. Un'infanzia felice, tutto sommato, perché un bambino che disegna paesaggi naif. Allora, arriva la laurea in medicina nel 1980. Ha nostalgia del periodo universitario? È un periodo straordinario, soprattutto per chi si iscrive a una facoltà, perché vede nascere dentro di sé una passione. Questo è un concetto che ho sempre applicato, sia per i ragazzi che ho incontrato, che ne ho visti tantissimi. Oggi io seguo i figli dei miei pazienti, seguiti di 30 anni fa, che mi portano a loro volta, i propri figli. I figli dei figli? Sì, ho sempre detto ai bambini, alle mamme, ai genitori, seguite le passioni dei ragazzi. Certo, coltivatele. Perché la passione dà quella forza interiore per riuscire bene in ogni disciplina. E questo è indubbio. Soprattutto, bisogna ricordarselo oggi, tante volte andiamo un pochino a sminuire o a non incoraggiare, se non altro, le passioni e le attitudini. Perché la pediatria? Nel senso che negli anni 80 già era iniziata un pochino la decrescita, no? Sì. Io avevo iniziato a frequentare il quarto anno di medicina, che volevo imparare bene questa professione, in un reparto ospedaliero del Policlinico Umberto I. Non era un reparto universitario, però lì ho avuto grandi maestri, perché era la vecchia scuola ospedaliera romana, quella che partendo dal Santo Spirito, nell'epoca medievale, che accoglieva i pellegrini, poi aveva dato luogo a una scuola di medicina. E anche la struttura del Policlinico con i suoi padiglioni, insomma, è molto stile Liberty, no? Molto anni 20, anni 30. Erano stati creati così perché tra un padiglino e l'altro c'erano i viali, c'era la separazione, perché le malattie infettive venivano combattute anche creando le distanze. La quarantena. La quarantena. Quindi la struttura era quella dell'inizio del Novecento, bellissima dal punto di vista architettonico, credo che sia straordinario. Sì, sì, è verissimo. E lì in quei padiglioni c'erano cose impensabili oggi, cioè reparti ospedalieri con 30 posti letto, tutti in un'unica camerata, cioè oggi sarebbe... E si fa tanta, e si faceva, e si fa ancora tanta ricerca in quei padiglioni, perché chiaramente il Policlinico Universitario permette di fare ricerca nei propri laboratori. Sì. Sono tanti ragazzi giovanissimi, già col camice bianco, molto prima di finire gli studi, perché vengono subito messi alla prova e a fare da ricercatori. Lì vedevo soprattutto anziani, è una categoria debole. L'anziano ha bisogno di tanto affetto, perché quando entra in un ambiente ospedaliero poi l'anziano si dissocia, perde quella possibilità di avere lo spazio temporale dove toccare le cose che conosce, eccetera. Anzi, ricordiamo anche il fatto che nella nostra cultura l'anzianità, diciamo, l'essere a Gé viene considerata a volte come una de minuzio, quasi un disvalore, invece in tante culture, soprattutto quelle orientali, invece è assolutamente un valore da preservare. L'anziano è la nostra storia, la nostra memoria, soprattutto è anzi un arricchimento della società, sicuramente. Ha lavorato in tre ospedali in cui è stato direttore ed è stato dirigente dell'Associazione Medici Cattolici per 40 anni. Volevo far vedere questa foto che ci ha portato, ce la commenti un po'. Chi sono questi? Sì, questa è una foto risalente da dieci anni fa. Professore, le chiedo solo di alzare un pochino la voce perché questi microfoni sono rodati per il mio timbro che sente come sto io, esatto. Va bene, mi adeguo. È un periodo particolare, è un'esperienza molto bella che ho avuto come primario facente e funzione, è caricato dall'Asle, presso il reparto di pediatria di Anzio. In questa foto ho dei collaboratori che sono stati eccezionali. e sono rappresentate, è una foto presa per caso, però rappresenta la componente infermieristica, il caposala, una collega giovane che sta alla prima, il primo incarico che ha avuto è stato proprio ad Anzio e io che ero il direttore, che era il primario. Ascolti, io ho sempre pensato che se avessi fatto mai nella vita medicina avrei scelto neonatologia perché chiaramente da madre di tre figli, insomma, il neonato è qualcosa veramente di tenerissimo, di distruggente, un amore viscerale per qualsiasi neonato. In realtà è una branca molto delicata perché poi i bambini che nascono prematuri o con delle patologie non solo, forse è anche più difficile, no? Trattare comunque dei pazienti così in miniatura e soprattutto in uno stato così di fragilità perché è ancora in informazione. Dobbiamo dire questo, che io, ritornando al discorso, stavo in un reparto di anziani, poi per caso un giorno accompagnando un collega a entrare in clinica pediatrica, è come innamorarsi a prima vista. e mi innamorai della pediatria. La pediatria è una disciplina molto giovane nella medicina perché i bambini venivano curati dai quattro anni in poi e agli inizi del Novecento ma non venivano nemmeno trattati perché certe patologie erano, diciamo, mortali. La mortalità infantiliera era elevatissima. Era molto elevata. A Parigi ci fu il primo ospedale nell'Ottocento che seguiva i bambini. Quindi la pediatria è una scienza molto giovane e ha avuto una esplosione agli inizi del Novecento, negli anni Trenta, poi piano piano con le scoperte scientifiche siamo riusciti a curare i bambini. La neonatologia è ancora più giovane della pediatria perché la neonatologia che l'ho vista nascere negli anni Ottanta, negli anni Settanta-Ottanta, nascevano i primi reparti dove venivano seguiti i bambini prematuri. Era agli albori. È una disciplina di 30 anni. Abbiamo raggiunto punte di eccellenza in Italia, soprattutto a Roma, c'è il focolare del Fatebene Fratelli sulla Tiberina, insomma sono proprio al top, diciamo, per le cure, le patologie e per i grandi prematuri. Quindi ricordiamo anche questo. Poi sono arrivate le missioni umanitarie in Africa, nell'Europa dell'Est. Che cosa le hanno lasciato? Io ero già iscritto all'Associazione Medici Cattolici, quindi è stato anche quello un amore a prima vista, perché mi resi conto, appena laureato, che la medicina, la tecnologia non poteva dare tutte le risposte. Un collega, il dottor Fausto Barbetto, lo posso nominare perché è un carissimo amico, mi disse, vuoi entrare nell'Associazione? Stavamo ad Albano. Io ho lavorato anche all'ospedale di Albano. E mi dava questo aspetto, diciamo, religioso, spirituale, di compliance con il paziente, mi dava quella completezza che la medicina tecnologica non mi avrebbe mai dato. Certo. Il rapporto umano, no? Il rapporto umano. E questo è il compito di questa associazione. Certo, cioè quello di aiutare il medico ad avere il contatto, a seguire, a immedesimarsi nel paziente. L'empatia, certo. L'empatia. Che poi è il vero e proprio capitale sociale in qualsiasi parte del mondo, non conosce latitudine o longitudine, chiaramente il contatto umano, quindi soprattutto tra medico e paziente. In questo contesto incontrai e ebbi contatti con Monsignor Dante Bernini, una grande personalità della chiesa locale, che mi disse, mi inserì, mi chiese di partecipare a delle missioni per conto della diocese. Io accettai molto volentieri. Io sono stato sempre, non sono stato mai legato a una realtà. Venendo dall'Umbria, quindi una terra... Aveva facilità a spostarsi, diciamo. Mi spostavo a Latina, poi i castelli, eccetera. E quindi partecipai a queste missioni. Entrammo in Romania appena dopo Ceausescu, poi sono stato coinvolto anche in altre missioni in Bielorussia, con il discorso di Chernobyl, dove ho trovato delle persone meravigliose italiane che hanno dato un contributo di aiuto straordinario a quelle popolazioni. Tanti bambini poi c'erano. Sia nel caso della Romania, dopo la satrapia orientale del dittatore Ceausescu, sia dopo la tragedia di Chernobyl. Era molto popoloso di popolazione infantile, diciamo. Sì, c'erano molti bambini. Purtroppo bambini anche con patologie importanti. Patologie gravi. Legate al disastro. Al disastro radioattivo. Sì. Allora, tra pochissimo sarà in pensione. Tra due giorni. Quindi auguri perché oggi festeggiamo il pensionamento qui da noi. Ma quella che sta vivendo è davvero una seconda vita. Lei ha vissuto sulla sua pelle, diciamo, una malattia anche importante di carattere ontologico, ma sempre tramite, da un lato, la medicina e quindi, diciamo, la scienza. Dall'altro, tramite la coltivazione della propria interiorità, della propria spiritualità, eccetera, è riuscito non solo a superare questo momento, ma a renderlo una rinascita. Ho superato questo momento principalmente per due fattori. Uno, le cure straordinarie che ho trovato al campus, dove vengo ancora tuttora seguito. E' il campus biomedico? Il campus biomedico. Dove mi è stata proposta una terapia. Io sono allergologo e immunologo, per cui l'immunologia è un po' il mio settore. Ero nelle sue corne. Oggi c'è una straordinaria rivoluzione in medicina, perché stiamo imparando e stiamo piano piano, ogni giorno, conoscendo i meccanismi di funzionamento del nostro sistema immunitario. E questo in oncologia, in immunocologia, sta portando dei risultati straordinari. E questo dà speranza a tutti, veramente, che tra qualche decennio forse riusciremo a sconfiggere anche questo male tremendo. Questa è l'affermazione anche del Premio Nobel che c'è stata quest'anno proprio su questo argomento qui. La speranza è che ogni giorno... Ricordiamo quindi quanto è importante la ricerca e non tagliare fondi alla ricerca, anzi incentivare la ricerca. perché i giovani ricercatori sono la speranza, il nostro futuro. La speranza di guarigione, perché poi ci si continuerà probabilmente ad ammalare, perché la prevenzione fino a un certo punto può funzionare. Però il fatto di poter guarire, ecco, la scienza deve andare avanti in questo campo. Il nostro paese in questo settore non è dietro a nessuno. No, è vero. Posso affermare, i dati statistici ce lo dimostrano, che in campo neonatologico il funzionamento di un servizio sanitario viene valutato in base al numero di morti neonatali. Quindi noi siamo allo 0001, siamo i primi nel mondo. Siamo i più bravi, siamo. Non lo possiamo dire, perché si parla sempre di mala sanità. Professore, guardi là. È scaduto il tempo. Io starei le ore a parlare con lei, le ore a parlare con lei. Volevo ricordare però che è anche padre di tre figli, che sta vivendo una seconda vita con la nuova compagna, dopo la scomparsa della mamma dei suoi figli. Noi le auguriamo ogni bene, davvero. La ringraziamo tantissimo di essere stato nostro ospite oggi. Io ringrazio tutti voi di averci seguito fin qui. Vi do appuntamento, come sempre lo sapete, a Spazioscenico. Grazie a tutti.